ok salve a tutti ragazzi buonasera mi sono collegata un minuto prima per spiegarvi quello che andiamo a fare ciao mi sono collegata qualche istante prima dell'inizio della lezione perché vi voglio spiegare quello che andiamo a fare per chi non mi conosce io sono Manuela e insegno SVC program allo Sporting Palace di Siconio SVC program è un programma di allenamento funzionale che comprende tre blocchi di lavoro nel primo blocco andiamo a prendere elementi della pesistica nel secondo blocco andiamo a lavorare la parte cardio e nel terzo blocco l'allenamento del core oggi ci dedichiamo al secondo blocco di lavoro ok raga quindi aspettiamo un attimo che qualcuno mi si collega e cominciamo cominciamo subito vediamo un attimino è la prima volta che faccio una diretta su un gruppo oggi è la prima volta che innamoro il gruppo sport e benessere quindi sono un po' agitata manco fosse a scuola mi vedete raga eccomi sì ci siamo un saluto inviamo un saluto ditemi se mi vedete raga perché io ci sono ora non so mi vedete monia ci siete sono in diretta eccoci ciao pensavo non c'era nessuno che ho detto sto facendo un guaio già lo so ciao a tutti raga io ci sono siete pochi però non so se mi salutano ciao mi vedete ok perfetto andata grazie pensavo che stavo sbagliando qualcosa sono sincera ok allora ripeto poco 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 eh svc program è un programma grazie è un programma di allenamento funzionale che comprende tre blocchi di lavoro oggi dedicato al secondo blocco di lavoro grazie grazie pensavo che non c'era nessuno perlomeno che non vi vedevo a bello ok e ci dedichiamo al secondo blocco di lavoro la parte cardio vi chiedo semplicemente di sentire la musica andiamo ad effettuare passi della prepuginistica e due pesetti due bottiglie se non ce l'avete i pesetti al posto dei pesetti usiamo le bottiglie oppure i manubri no per chi ce la cosa rimane i manubri ok quindi andiamo ad alternare il blocco 2 comprende la parte cardio andiamo ad alternare la prepuginistica con le espressioni sul posto perché in corsa non possiamo farle ok occhio non è importante la quantità ma la qualità lo dico sempre quindi quando andiamo a fare il barbis mi raccomando il controllo quindi la postura e il controllo anche se ne facciamo pochi ma buoni hanno interesse a quello no? quindi la parte cardio del blocco 2 svc programma è proprio questa ci dedichiamo solo a quello ok poi termino con un po' di addominali finali semplici semplici raga io inizio ok calcolate che sono sola la regia oggi non c'è quindi quello quello che riesco a fare in questo spazio minuscolo spazio vitale lo dedico a voi grazie a tutti quanti un saluto un saluto a monia e tiziana ele e giulia e chi mi segue ok iniziamo ok bel respiro raga dai secondo terzo ok l'ultimo scendi sali scendi sali sei quattro quattro due uno guardami u sei tre due uno a allarga le tue braccia e muovi ci siamo ci siamo raga ogni tanto datevi un cenno eh bene lo vedo lo vedo poco il cenno però non ci credo sono mio beh ok ok stop scendi 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 qua fermati fermati da un lato scendi eh bene abbassa il sedere uno due sali 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 scendi 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 poi raga stop finito l'istaggamento eh oh 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 marcia mi lavo tutto butto la maglia ciao ele e marcia prepugilistica subito alziamo il suo cuore aerobico anaerobico facciamo la differenza ma vogliamo sentire qua la differenza guardami mi trova cerco di rimanere qui eh alza la guardia faccio diretti ancora diretti ok sei fermati facile ancora siamo nella fase 1 eh qui qui è la fase 1 no no veloce si centrale centrale frontale quattro tre due incrocia e marta ci sei? gancio ok raga fermiamo le gambe alterna set alterna ok incrocia muoviti oh montante 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 e sorridi sempre ferma le gambe alterni ci sei? oh la zona si sta lentamente riscaldando eh vai 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 ci sei? quattro tre due uno incrocia le gambe oh tutto da capo si gancio gancio ci sei? montante tutto da capo eh senti come cambia il respiro? cardio ferma le gambe solo quello che ti chiedo diretti gancio alterni alterni sul posto montante wow da basso verso l'alto no? raga immaginiamo di dare un pugno a qualcuno sulla sulla zona più alta dello stomaco eh da capo resta sul posto resta sul posto non ti muovere ok gancio gancio enfasi u u u ferma con ste braccia muoviti solo lentamente apposta la guardia marcia cardio vogliamo farlo salire un po' di più marcia su logo espressione in logo non possiamo correre giusto? ok 4 3 su fai finta di correre? fai finta di correre? dove va? sul posto corri ok stiamo correndo immaginiamo questo arriverà eh? raga skip su su sul posto gambe comincia ok andiamo verso la parte anerobica la zona anerobica andiamo ad alzare di più la nostra prestazione bene stop ok lo rifai da capo skip oh sei riuscita a farlo più veloce? ma forza un po' eh eeeh stop ci sei? che pegliello che pegliello ragazzi che pegliello ci siamo? che pegliello? che pegliello? algunas eeh 4 3 2 1 recupero attivo ci siamo eh jumping jack ne facciamo 16 riempi questo cuore dai 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 16 8 7 6 5 4 3 2 a sul posto ok 4 3 2 1 incrocia qua eh è andata è andata la crepucilistica torna di nuovo secondo giro ne sono 3 eh tira la crepuccia ci siamo eh c'è il mio cagnolino vai raga l'hai fatto prima me lo devi rifare meglio di prima ora lo sai eh ci ti muochi ma dove state vai ci siamo eh ci siamo eh vi richiedo la crepucilistica raga eh me la richiedo 3 giri ok aerobica e quella dopo anaerobica lineale semplice sono un blocco di lavoro occhio me ne fai 3 1 2 3 ti sposti me ne fai 3 ci sei non li fai ci siamo ancora 3 via ok solo 3 destro sinistro destro ok esprimi no aerobica solo piano gancio 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 sempre 3 eh ancora ancora ok montante 1 2 3 3 3 1 2 3 ok 3 3 stop vieni qua solo crepucilistica continuo 4 3 2 di nuovo diretti occhio raga ora vedi giro eh girali guarda 1 2 3 guarda le gambe piccolo a fondo quando giri il tuo corpo si ancora ancora 3 guarda gancio ok 1 2 3 e e e si 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 vieni montante 1 2 3 non perdere il controllo eh 1 2 3 gli ultimi stop ora voglio di più ok voglio di più guardami piccola coreografia piccola girali centrali gancio vieni qua girali montante 3 gira stop vieni qua vieni qua 3 2 1 stop sul posto sul posto barbissa 4 3 2 1 prendi i pesi io le bottiglie raga ok le metti a terra se non vi vedete ve lo mostro i barbi ci buttiamo a terra piccola pressione prendiamo le bottiglie e torniamo su le bottiglie quando torni su le devi spostare torni giù e le pose troviamo ok raga è a tempo non è la quantità è la qualità eh siete pochi dove state 4 3 2 1 guarda scendi pressione sali bottiglia ok 4 3 2 inizia via oh scendi pressione piegamento qui ancora ancora l'ultimo ok ok dopo lo rifacciamo eh jumping jack 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 6 5 4 3 2 2 3 sempre 16 questi 16 ok lo rifai subito non perderti non perderti oh oh stop corro spostati se riesci barbis secondo giro poso le bottiglie scendi piegamento ti alzi tiri giù in spinta le braccia 10 secondi braccio torni spiegamento spinta scendi spiegamento spinta vai si l'ultimo stop stop andiamo avanti stop marcia bevi asciugati se vuoi già nel tuo corpo siete pochissimi disgraziati marcia vai andrea ok recupero attivo terzo giro raga dai che è finita è finita cardio 4 3 2 incrocia repuginissima terzo giro raga tutto da capo ma dove siete finiti poi dai raga ok conosci il prodotto gancio ci siamo eh ci siamo montante qui faccio e l'onora diretti occhio tutto sul posto raga eh 4 3 2 1 fermo le gambe e spingiti e spingiti qua e spingiti la tua potenza sul posto che c'è gancio grazie qualcuno c'è non mi hanno abbandonato eh ti avete letto cardio e 4 senti spingiti e poi con l'addome stop qui qui stop stop 4 3 2 fermo le gambe la gamba destra in avanti e sul posto sul posto sul posto sul posto la gamba destra in avanti guardia destra la guardia sinistra questa sposti la gamba sinistra in avanti avanti e torni indietro ok avanti e torni indietro gancio oh 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 cambio di guardia montante oh 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 4 3 2 1 oh schiva lo sai oh oh ah eccomi ci sono schivo schivo ragazzi siete siamo tornati datemi un cenno eh è la connessione salta mi avvicino eh bene dai grazie ultimo giro ultimo giro ultimo giro schif la siamo partiti e la torniamo eh vai ci sei 4 3 2 a contrario ok e 4 3 2 salto salto sul costo ora tutto a terra skip a terra 4 3 2 1 scendi skip ci siamo raga skip a terra mi vedi mi vedi bene grazie andrea a terra sì 4 3 2 sali sì monia sei tu oh 16 jumping jack 4 3 2 16 1 2 8 7 6 5 4 3 2 oh sul posto muovi avanti e torni avanti marcio marcio ora si termina così ok solo qui ferma le gambe cominciate a muovere fine fine piano piano torno giù ok 4 3 2 fermati giù a un lato scendilo ti ricordi scendi sali scendi sali 4 3 2 1 resti allarghi vieni in avanti e rimani 3 2 1 cambio scendi allarghi torni rimani 4 3 2 centrali scendi qua unisci quelle gambe scendi e rimani 4 in avanti 1 1 1 1 4 3 2 1 scendi rimani e lo rifai di qua di qua allarghi allarghi e torni su muovere gambe ragazzi la parte cardio è solo questa chi mi segue lo sa e se il programma è anche questo lavorare su un blocco di lavoro cioè abbiamo lavorato sulla resistenza terminata ok bene ci facciamo gli addominali se non è mancato se non è mancato stiamo a casa ok andiamo batti le mani scrocchia le dita porti il palo tutta la vita e stop e 4 3 2 stop scendi scendi 4 3 2 a terra crunch ok scendi ok braccia su gambe su solo crunch andiamo ci siamo e le gambe sono distese in su piegate distendile qui e continui continui 4 3 2 rimani allunghi mettiamo avanti spalle spalle occhio alle gambe e e 4 3 2 stop scendi ritorni 4 3 2 riscontri i percorri la stessa cosa ok allunghi le gambe ma non finire il tuo crunch quello non si ferma 4 3 2 rimani braccia in avanti ok Anna rosa rimani 4 3 2 recupera recupera siete pochi ma addossate raga un altro giro di addominali e ce ne andiamo eh io sono francica anche voi 6 7 rimani allunghi infilisci 3 2 1 braccia infilisci 3 2 1 stop cresci alzati ok raga facciamo un bel respiro mi dispiace che siete pochi però spero ci vediamo giovedì alle 18.30 alla stessa ora vi ricordo che questa è la parte cardio dell'SVC program quindi si suda un po' di più però il cuore è quello che andiamo ad allenare nella parte cardio eh ci aspetto giovedì alle 6.30 grazie a tutti grazie Monia e a tutti quelli che hanno partecipato ok love